Sono come se ne va bene. Ad agganciare Prunacci, che è da due giri, che è al comando e sta continuando a tenere la testa. Vengono sotto anche gli altri. Terza posizione, Marco Cestarelli. Siamo quasi a 500 metri di gara con Prunacci e Alessandro. Posizione, arriva ora in seconda, Zazzarini, San Giorgi. Zazzarini, San Giorgi, Cestarelli, Cestarelli all'interno. Ancora Prunacci, che bella tirata che si è fatto Alessandro, Prunacci. Ancora il comando, ora Zazzarini, Cestarelli, San Giorgi. Ai miei due. Ci provano ora. Zazzarini all'interno, San Giorgi all'esterno. va via Cestarelli, San Giorgi. Va a cercare Cestarelli. Cestarelli, San Giorgi, Zazzarini. Cestarelli, San Giorgi. Cestarelli, San Giorgi, Zazzarini. Baglietta, Prunacci, Verdusi. E l'atletta friulano del New Roller Corcì, Alessandro Pussiola, che lancia subito Elia Felicetti, a coprire il luogo. Pussiola, Felicetti. Piano il cambio. Felicetti, Pussiola. Ottima l'andatura dei primi battistrada, che hanno un bel margine di vantaggio sugli altri. Nel quattro. Viene sotto l'atletta del Bossica, Samuele Angelini. Grande fatica per ricuscire lo strappo dei due battistrada. del gruppo inseguitore Aurelia, ai 500 metri. Elia in prima posizione. Eccoli che ha un passaggio. Passaggio di meno due. Sempre con Elia Felicetti, in prima posizione. Meno due. Meno due. E' natura molto alta. E' natura 2 a 3. E' natura molto alta. Allora Pussiola. Pussiola per i scemi. L'ultimo giro. Si riagganciano tutti. Si riagganciano tutti. Si riagganciano. Pussiola. Pussiola. Vediamo chi prende l'iniziativa. E' Thomas Puro. Con l'atleta di Taranto. Grigione. Conzione. Andorra non è troppo forte. Non ci sta tirando moltissimo. Attenzione. Questi atleti hanno i tempi di riferimento delle prime due batterie. Vediamo se Cucone aumenta un po' e se riceverà il cambio da parte degli altri atleti. Andorra molto controllata. Molto più lenta questa batteria rispetto alle precedenti. E ora Pussiola. che continua a tirare. Siamo al passaggio dei 500 metri. Meno tre. Meno tre. Nessuno prende l'iniziativa. Tutti provano a giocare solo a traguardo finale. Ma solo il primo accede alla finale di diritto. E poi ci sono tempi. Ci sembra che non sia tiratissima questa batteria. Ma ora va via con decisione. Thomas Burr. Thomas Burr. Siamo all'ultimo giro. Con Marac e Progaschi in seconda posizione. Sono lì. tutti i punti vicini. Cerca di recuperare anche l'alto. Ci siamo dall'arrivo. Prova a tagliare. Carriano in giro. La volta è lì. La plena di Braia va a conquistare la finale. Gara di Sturino. In prima posizione. Ma ora va a guadagnare la seconda. E via Felicetti. Gara di Sturino. Gara di Sturino. Gara molto controllata. Anche questa dei giardieri. solo la posizione. Ricerca della posizione con Elia. E 4. Meno 4. Meno 4. Attenzione. Entriamo nella zona calda della gara. Al passaggio. 500 metri ancora. Metà gara. Metà gara. Metà gara. Metà gara. Metà gara. 287 metri. La mia via Felicetti. Era la mia persona di U1 E1. La mia via Felicetti. La mia via Débora. La mia via Felicetti. La mia via Felicetti. Da apprendere. Ciao aiutinissimi. E li ho felici di Madrid. Pizzetti. Dai Visetti. Grazie.